L'università deve produrre ricerca e formazione, c'è una ricerca che più si presta al trasferimento tecnologico e quindi la possibilità poi di tradurre le idee di impresa in imprese e questa iniziativa va in questa direzione. Noi abbiamo come campus una doppia potenzialità che va letta sia nel senso che noi abbiamo la fortuna di avere colleghi di formazione diversa che collaborano a stretto braccio, quindi braccio a braccio e quindi hanno la possibilità di potersi mettere attorno a tavolo sia persone che vengono dai saperi scientifici piuttosto che dall'area umanistica e quindi partecipare in maniera concreta alla ideazione di imprese e poi alla realizzazione. E poi c'è il discorso che noi abbiamo come campus la potenzialità di poter immaginare che in una fase successiva sperando che si esca definitivamente dalle imprese, dalla crisi, imprese qualificate, selezionate il più possibile anche che nascono dal mondo stesso dell'università e comunque ad alto valore tecnologico e coerente rispetto al disegno dell'università possano fisicamente insediarsi in un territorio che si caratterizza sia in termini di sicurezza, sia in termini di logistica, quindi di viabilità ma si caratterizza soprattutto perché oggi le imprese cercano come materia prima da acquisire i cervelli e qui noi le abbiamo sia per i nostri studenti ma sia anche per i docenti e i ricercatori che hanno potenziato la voglia di poter, nei limiti evidentemente delle norme, mettersi in gioco rispetto anche alla costituzione delle imprese.